Ciao a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero che tutto vada bene, se siete nuovi nel mio canale siete i benvenuti, se invece siete già iscritti siete i bentornati. Oggi continuerò insieme a voi la fiaba di Aladin e il mistero del sultano, avevo letto il primo capitolo nello scorso video, quindi se non l'avete visto andate a recuperarlo perché merita veramente tanto. Detto questo io direi quindi di continuare con il secondo capitolo per finirlo del tutto perché è semplicemente due capitoli quindi per finirlo è anche l'ultimo. Prima però voglio ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, se vi va accendete la campanellina, lasciate un bel like e commentate con cosa ne avete pensato, condividete il video con una vostra amica che è una fan delle fiabe sfegatata come me, detto questo direi di iniziare, prima però facciamo partire l'intro. La pietra magica Ecco fatto, esclamano trionfanti due giganteschi tigroni che saltati fuori dalle ceste hanno sorpreso i nostri amici alle spalle e li hanno catturati. Il nostro padrone sarà molto contento di ospitarvi nelle sue prigioni, ha ha ha, Ali più furbo e più veloce per fortuna è riuscito a fuggire, però chi sta aspettando i nostri eroi nel suo rifugio segreto? Ma è lo stregone nero, allora è stato lui a rubare il prezioso rubino e a nasconderlo nella torre. Ora la magia del topotapi sarà per sempre mia e potrò conquistare tutte le ricchezze del sultano. Quel serpente traditore, bronto la flap appesa a testa in giù, ma lui è abituato a questa posizione, del resto è un pipistrello. Non mi è mai piaciuta quella brutta faccia, apravano Aldine Spillo, a cui hanno tappato per bene la bocca. Per fortuna a lì arriva il loro aiuto, si è travestito da Odalisca ed è entrato indisturbato nel palazzo, ingannando le guardie. Ora per lui è un gioco da ragazzi liberare i tre prigionieri. Corriamo alla torre misteriosa, dice Aladin, ho avuto un'idea geniale. Con un incantesimo la ricoprirò di rampicanti, così potremmo salire senza fatica. Aladin si concentra, strizza gli occhi, star notisce e prima che Fla possa intervenire con i suoi consigli, spara la formula. Ma non ha neppure il cappello in testa e non se la ricordo tanto bene. Abracadura, erbe e verdura, ricopri tutto, anche le mura. Che cos'hai combinato adesso? Protesta Spillo, sporgendo la lingua dal cappottino di rampicanti che lo copre dalla testa ai piedi, che in realtà non ha. Per fortuna, questa volta, Flapp è pronto a correggere gli errori del maghetto pasticcione. La formula viene ripetuta in modo corretto e subito un robusto rampicante si attorciglia lungo il liscio muro della torre. Aladin si arrampica in fretta, seguito dai suoi tre amici. E finalmente, eccoli davanti al rubino magico. Com'è grosso e guardate come brilla! I poteri della favolosa pietra sono nelle loro mani. Punisci i malvagi, sconfiggi i nemici, portaci in fretta dai nostri amici. Questa volta, Aladin ha azzeccato la formula. E ecco il risultato. Lo stregone nero si trova chiuso in gabbia prima ancora di riuscire a capire che cosa gli sia accaduto. Aladin può finalmente riconsegnare il topotapi al sultano, che lo ringrazia con un dono. So che state per celebrare una festa importante al grande bosco. Ti regalo i mirazzi stregati. Ti faranno fare un figurone con i tuoi colleghi maghi. Come pensate che finirà? Avete indovinato! Anche questa volta qualcosa non ha funzionato. Aladin è proprio incorreggibile. Questa è la nostra storia, ragazzi. Spero vi sia piaciuta. Io personalmente l'ho adorata veramente tanto. Trovo che sia veramente molto bella. Che comunque ci faccia capire come anche persone che non possano fare certe attività non è che sono esonerate dalle altre. Perché se una persona non è brava a fare una determinata cosa non vuol dire che non sia brava a fare tutto il resto. Secondo me c'è questa storia, dovrebbero leggerla un po' i professori che pensano che se te non sei brava nella loro materia, automaticamente a scuola non sei brava, nella vita non farai niente, sei inutile, sei una fallita. Quando non è vero, perché non è che se nella loro materia non vai bene, allora vuol dire che non andrai bene in tutto il resto. O che comunque quella scuola non sia la tua scuola, o che quella facoltà che hai scelto non sia la tua facoltà. Per me non è assolutamente così, perché è normale andare bene in alcune cose e in altre non andare bene per niente. Un po' come il nostro Aladin è bravo a risolvere i misteri, aiutare gli amici, ma non è bravo a ricordarsi le formule. E va bene così, ma perché ognuno di noi è già dalla nascita programmato per essere bravo in qualcosa e non essere bravo in un'altra, nessuno è bravo in tutto. Quindi quando voi avete intenzione di mollare, di dire ok io sono una fallita, tutti gli altri sono meglio di me, non è assolutamente vero, perché anche gli altri hanno i loro problemi, anche gli altri si sentono dei falliti, perché magari tu sai fare una cosa e loro non la sanno fare. Quindi quello che io vi consiglio assolutamente è di avere più fiducia in voi stessi, in quello che fate. Se il professore dice, secondo me te non sei portato per questa scuola, allora tu lascialo parlare, non rispondergli perché è da maleducato e rispondere magari ad un adulto, ma neanche stai zitto. Ecco, diciamo ti impegni di più nella sua materia e gli mostri che te ce la puoi fare se vuoi, e prendendo anche magari ripetizioni, perché per me nulla è impossibile. Però bisogna anche a volte arrendersi e capire che in alcune cose siamo portati, in altre no. Questo è tutto ragazzi, spero vi sia piaciuta, noi ci vediamo in un prossimo video, con una prossima favola, una prossima recensione, chi lo sa, dipende da come mi gira la mattina. Detto questo io vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina e lasciare un bel like. Se vi va commentate con cosa ne pensate voi del sistema scolastico italiano ad esempio, o del sentirsi dei falliti, detto questo io vi saluto e vi auguro una buona serata. Ciao ragazzi!